Parliamo con Alessio Tacchinardi della vittoria con il Ciliverghe, si è arrivata l'ennesima prova di maturità, adesso è proprio lanciato verso quel famoso secondo posto, adesso è un obiettivo raggiungibile? Vabbè, raggiungibile, se torno indietro con la mente a ottobre, settembre, è vero anche che anche all'andato con questi abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo preso un gol su una disattenzione, venivamo anche puniti forse più del dovuto, però certo che la squadra ha trovato un'anima forte, importante e siamo una squadra pronta adesso per poter provare a essere protagonisti. Io vorrei ai miei giocatori, ma neanche tanto guardare né Ciliverghe né Ciliverghe, ma con tutto rispetto per queste squadre, ma cercare di avere ambizione in qualsiasi partita di giocare. Poco tempo fa una persona, non dico chi, ha detto ma sì, ma tanto lì alla pergolettese si fanno ancora due partite e dopo si sono salvi e sono tranquilli. Io non mollerò fino all'ultimo giorno, dell'ultimo minuto, dell'ultimo allenamento perché voglio cercare di migliorare i miei giocatori al massimo perché mi stanno dando tanto, mi stanno riempiendo veramente il cuore come la benegazione durante i allenamenti, perché si allenano al massimo e questi sono i risultati. Quindi godiamoci questa vittoria importantissima, fatta di qualità, di sacrificio, di lavoro. Ci rimettiamo, insomma, riposiamo domani e poi ci rimettiamo giù, come detto, dopo ci saranno col testone a pedalare perché è un momento troppo bello questo per non sfruttarlo. La squadra dal 22 novembre da Mapello ha cambiato totalmente rotta, sta viaggiando a punti di primi della classe e ormai il passato è andato, guardiamo al futuro. Penso che questa squadra sia una squadra forte, una squadra ambiziosa soprattutto. Tante note positive oggi, nel primo tempo, la qualità in attacco, ma forse ancora di più nel secondo tempo dove ha controllato totalmente la partita, non ha concesso nulla al Ciliverghe. No, abbiamo sofferto un po' all'inizio, all'inizio è stata una partita un po' più aperta, loro sapevamo che è una squadra abbastanza vecchia, con dei giocatori cardine che però più corrono, più fanno fatica, più si stancano, quindi era una partita poi che io mi aspettavo più da giocare sul secondo tempo. Invece è stato bravo subito a sbloccarla, è inutile continuare a dire di Cesca, ma ha fatto un gol da fuoriclasse per me, perché anche quando giocavo con i grandi giocatori ne ho visti pochi fare dei gol del genere, quindi per me è un onore e un piacere allenarlo tutti i giorni e la squadra sta prendendo tanto da lui come mentalità. Ma sono contento per la fase difensiva, perché anche con Ciserano, anche se poi gli hanno dato un gol su un calcio d'angolo che non era da fischiare, però la squadra oggi ha lavorato benissimo, loro sono un po' accrati nel secondo tempo, però lo sapevamo. Però la condizione della squadra ottimale è fantastica, però le linee dietro hanno lavorato benissimo e quindi insomma siamo contenti. Adesso, ripeto, godiamoci questa partita, ma martedì giù il testone perché non dobbiamo fermarci sul più bello. Adesso l'alpergo ha giocato bene contro le squadre d'alta classifica, settimana prossima ci sarà lo scontro con una squadra di medio-bassa classifica che probabilmente presenterà delle difficoltà diverse, quella di sbloccare la partita. Presenterà come tutte le paredi le difficoltà, adesso io non guardo alta classifica e bassa classifica. La Grumelles è una squadra che fa punti, domenica scorsa ha perso l'ultimo secondo col Piacenza su punizione, se no non perde neanche a Piacenza, è una squadra da rispettare moltissimo, è una squadra che ha dei giocatori importanti davanti. Guri ha fatto tantissimi gol quest'anno, o Stoni è un altro buonissimo giocatore, ma la prepareremo con grande umiltà. Non guardo se sono dietro, anche perché noi fino a due mesi fa, e forse è anche un bene ricordarselo spesso, quello che due mesi fa, tre mesi fa, ma noi sono nei bassi fondi, quindi questo ti darà ancora più forza. Ho sempre detto ai ragazzi, è meglio partire male e finire bene che il contrario, che così acquisti certezza, autostima e forza. Ma con grande umiltà la prepareremo, perché dovessi mai vedere un minimo rilassamento, da martedì non esiste questa squadra. Ma no, ma questa squadra è abbastanza matura adesso, è consapevole di poter battagliare con tutti, e con la Grumelles sarà una partita da preparare come una finale.